Il primo human rights che ho fatto è una cosa che mi ricordo a ogni successiva edizione, cioè che è uno di quei lavori dove nonostante si esaurisca tutto in due settimane di delirio spero sempre che succeda di nuovo l'anno successivo. Questo è il ricordo che ho ogni anno del primo ricordo che ho avuto nella prima edizione che ho fatto. I love human rights. Grazie